Amici razziali, benvenuti a questa era Lazio, ci rivediamo dopo la sosta amara per i nazionali per preparare la partita contro il Sassuolo di sabato alle 18. Buona notizia per Maurizio Sarri, a Formello si rivede anche Luis Felipe, difensore che fin ieri era in bilico per la sfida di sabato pomeriggio, oggi si è allenato regolarmente con il resto di compagni all'interno del centro sportivo, un recupero importante per tutto del reparto, visto che il tecnico lo ha anche schierato nelle prime prove tattiche anche da solo, accanto a Francesca Cervi, anche lui nel primo allenamento della settimana, se l'ex selenitana non dovesse farcela, al suo posto è pronto Patrick, l'altro abballottaggio riguarda invece la fascia sinistra con Marusic fresco di rinnovo fino al 2024, in vantaggio sui sai, a destra dovrebbe essere scontato l'impiego di Lazari, per il resto non dovrebbero esserci grossi mutui interrogativi, il ritorno di Zaccani dall'impegno con la nazionale italiana, che sabato lo manderà in campo per completare il tridente con il morbido di Felipe Anderson, non ci sarà invece lo squalificato Petro, che si candida già per una maglia di terrorare per la trasferta di Marassi contro Genoa, in programma la settimana prossima, in mezzo al campo si ripeteranno i stessi interpreti dei derby, con Milinkovic e Luis Alberto Tradi di Leva, anche oggi l'unica assente per infortuni è Radu, alle prese con la solita fascia e plantare, per quanto riguarda il Sassuolo dovranno ad allenarsi anche gli uomini di aderezzo Dionisi, il Sassuolo quest'oggi ha svolto l'allenamento popoliniato al Mabè Football Center per preparare la sfida contro Lazio, in programma sabato d'abile alle 18 appunto, allo Stato Olimpio come già detto, nella seduta odierna e Nero Verdi hanno svolto nella prima fase di interventamento e riscaldamento seguito da Dottorello, esercitazioni tecnico-dattiche e sviluppo manovra, prosegue invece il lavoro differenziato per Domenico Belardi, Filippo Dioricic e Giacomo Stassadarino, il leader del Sassuolo è sempre più in dubbio, un po' importante aggiornamento se le sue condizioni sono date nel corso della conferenza stampa di Dionisi, il programma Nero Verdi infine prevede che in due anni mattina si è arrivato alla rifinitura e poi, subito dopo Ranzio, la squadra partirà per Roma. Notizie di calcio-mercato, per la prossima stagione Sarri avrebbe bisogno di un ognuno di un mercato specialmente in fase difensiva, da Dottore Guardia e Banco Celeste rischia di perdere diversi pezzi e la razza del dovere di sostituirli, da Luis Filippo e da Cervi passando per Patrick e il dubbio erato, sono tanti i nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane, sia di centrali che di laterali. Come riporta la testina stampa a cura di Radio 6, torna di modo in casa in Casarazzi e finì un nome di Fabiano Parisi. Il terzino sinistro dell'Empoli sta vivendo una stagione d'assoluto protagonista sotto la guida di Andrea Azzoli e sembra pronto per il grande salto. Sud di luce l'interesse di un'altra amica italiana come il San Napoli. La valutazione del crema toscano per il difensore del classe 2000 è circa 15 milioni, simile a quella che il Chelsea fa per Emerson Palmieri. Vediamo anche alcune dichiarazioni che ha fatto al Lazio S. Radio Beppe Signori. È passato un anno dalla sua soluzione e ha raccontato le difficoltà di quel periodo vissuto, ma non solo, si è sformato sulla Lazio di Sarri e su ciò che si aspetta dalla prossima gara, lasciando spazio anche per i ricordi. Queste sono le sue dichiarazioni. Sto bene, sono stati anni difficili, non è importante guardare al futuro, dipende dalla mia vita. Nel 2011 ha cambiato tutto, l'anno prima a Coperciano ho pubblicato il suo palentino per allenare. Gli ultimi dieci anni non mi riterrà nessuno, ma ormai mi piacerebbe allenare i miei ragazzi e mettermi alla prova. Sui mobili ognuno deve essere contento per le cose che ha fatto e di quello che ci è riuscito a dare con la maglia della Lazio. Io sono stracontento di aver fatto parte della storia e raggiungendo un'altra guardia importante nella Lazio che stava crescendo. Con l'arrivo di Cragniotti mi poi riuscito a vincere tutto, questo è un grosso onore. Siamo sempre rimasti legati a società in cui ho giocato, ho ricordi indirebili. Per quanto riguarda Ciro si sta meritando tutto quello che sta avendo e credo che una corona adesso ce l'abbia anche lui perché è un grande bombero oltre che è un grande giocatore. La Lazio di Sardi mi sono di tempo, è ripetibile vedere un anno degli alti e bassi. Quando arrivi da altre stagioni con lo stesso allenatore dei cambi, le difficoltà erano quasi scontate. Però a Bianco Celeste non è tutto per raggiungere un posto nella prossima Europa League. Adesso Sambro c'è il Sassuolo, un'altra squadra che va a giocare. Verrà fuori una bella partita. I Nero Verdi sono una nuova veniva vacante. Sarà una gara difficile ma sarà solo di puntare Europa e deve vincere. A giugno inizionare un'accademia a Miami. Poi vedremo se arriveranno altre opportunità. Nel libro pubblicato c'è tutta la mia carriera ed anche quello accaduto dopo. Essere riusciti ad ottenere la verità è stato un orgoglio. Una vittoria. Detto questo, signori, io vi saluto. Lazio-Sassuolo è una partita importantissima con una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. L'ultima chance per provare a rimanere aggrappati al gruppetto di squadre che inseguono l'Europa League e la passione alla stagione. Forza Bianco Celesti, vedremo l'esito. Per questa settimana è tutto. Grazie Damiano Gerestrini. Un caro saluto. Ciao.